Amici, amanti dell'oroscopo, eccoci qui per un nuovo video, ma soprattutto per tutti i nati sotto il segno del Leone, perché settembre, il mese che sta qui alle porte per iniziare, lo fa in modo interessante. Questo lo fa grazie alla buona presenza di Mercurio in bilancia, migliorando notevolmente le dinamiche di un cielo già di per sé positivo, quindi di base già si parte bene. Quindi te lo dico a te, del segno del Leone, di approfittare di questo supporto stellare per poter affrontare tutte quelle questioni importanti che possono aiutarti a far chiarezza, a trovare un punto di equilibrio nei tuoi rapporti, ma anche a fare scelte condivise. Il supporto di Mercurio si rivelerà positivo anche negli affari che da qui alle prossime settimane andranno molto bene, sia che si tratti di negoziare una vendita, una rendita o altre transazioni finanziarie. Mercurio per buona parte del mese sarà sicuramente in opposizione con Giove, un transito di per sé non particolarmente difficile da gestire, ma che richiama assolutamente alla prudenza. Rispetto ad alcune iniziative cerca di non fare il passo più lungo della gamba. Dopo il giorno 10, in particolare quando Mercurio diventerà retrogrado, sarà importante programmare le cose con maggiore accuratezza, perché potresti non avere un quadro completo della situazione. A parte questa piccola raccomandazione, le possibilità di crescita che racchiude questo transito sono davvero positive e possono riguardare il tuo lavoro, quindi l'ambito lavorativo, ma anche una relazione importante. Uno scambio di idee, pensieri, progetti si rivelerà proficuo perché consentirà a te e all'altra persona di comprendervi meglio ed eventualmente di scoprire in quale direzione andare. Senza dimenticare Marte che dal segno dei gemelli ti caricherà di emozioni positive, di intraprendenza e potrai portare avanti i tuoi progetti senza farti destabilizzare da eventi inaspettati. La capacità di esprimere in modo brillante le tue opinioni o le tue idee giocherà un punto a favore e lo farà in molte situazioni. Ottimo passaggio quindi per chi svolge un lavoro in cui la parola riveste un ruolo di primo piano e non sono da escludere anche proposte di lavoro o conferme che magari stavate aspettando da tempo. Le prospettive sono dunque positive, ottime anche per gli imprenditori e i liberi professionisti che questo mese avranno la strada spianata per dare il via a progetti significativi e importanti che hanno richiesto tempi di progettazione piuttosto lunghi e faticosi. Per alcuni nati dal segno vi è la possibilità di cambiare lavoro o direzione, sempre a livello professionale, ma anche l'occasione di stringere nuove amicizie, alcuni delle quali potrebbero rivelarsi più interessanti del previsto. E questo è tutto per quanto riguarda il segno del leone, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima, sempre qua, su Pausa Caffè.